Il lipofilling è una tecnica che consente di effettuare dei riempimenti di molte zone del volto, riempimenti della zona zigomatica, riempimenti soprattutto dei solchi naso-labiali e di molte altre zone del volto, per esempio le labbra, utilizzando il grasso stesso della paziente. Il grasso viene prelevato in altre zone, viene trattato secondo delle tecniche per cui viene centrifugato, quindi viene purificato, si ottiene un grasso puro dalla stessa paziente che viene trapiantato nelle zone interessate.